Ehi la ciurma, io sono Malzatest e questo, come potrete immaginarvi, è l'episodio 78 di Expeditions Viking. Ci stiamo avvicinando alla conclusione. Mi sa che questa è l'ultima quest che possiamo fare prima di schierarci con uno o con l'altro. Allora, Reethered ha detto che tu puoi essere, possiamo fidarci di te, non sei lì, non è tu, va bene. Quella ascia danese non è per bellezza, se tu sai usarla bene. Dobbiamo trovare delle persone, ci sono dei soldi per te, fammi sapere più. Dobbiamo trovare 5 persone. Ok, cosa puoi dirmi di questo? Ok, ci danno più soldi se lo prendiamo a vivo, va bene. La ragazza che scappa? 60, ok per riportarla. questo che non ha pagato le tasse. Ok. 72 se lo prende vivo, va bene. E di questo? Degli altri soldi, va bene. Quindi ci ha dato un sacco di persone. Iniziamo. Va bene. Dobbiamo vedere, perché dobbiamo andare in tutti in Europa globale. Vediamo più che altro come sono cambiati i prezzi. Dov'è che era il tizio? Il tizio di prima? Market Street, era qua. Non è lo stesso di prima. Quella di prima? No, quella di... No, boh. Quello di prima era questo. Teodor... Teodor Kazumarzu, Kazumarzu. Vabbè, poi c'è quell'altra. E quell'altra accetta anche altre cose. Vediamo cosa vendi. Ah, adesso ha dei prezzi generosi, ovvio. Quindi quanto va questo? 100. Vabbè, non è che ci abbiamo perso... 100 valuable, ci abbiamo perso. No, non tutto. Do... 10? Sì, 100 valuable. Vabbè. Instagram... Va bene. Ehm... Qua cosa è che abbiamo? No, 50... No, va bene così per ora. Ehm... Andiamocene. Andiamocene, proviamo a fare questa secondaria qua. Toglierci anche questa. Beh, se un'altra ci fa guadagnare tempo per la costruzione delle robe, perché adesso siamo a 81, ci manca a 19 punti comunque, nonostante tutto. Che non so se guadagniamo solo dalla quest principale. Ehm... Allora, vediamo un attimo. Questa è là sulla spiaggia. Questo... E giù di là. ma... Già ci fanno girare un sacco. Questo... Ah, è su in cima. Oh, è lontanissimo, vabbè. Dove ricordarci di mettere il non little attack quando andiamo. Dove siamo, scusate, in tutto questo. Qua. Quindi, la spiaggia, quello. Ehm... Runaway... Invece, sempre là su, ci va. Allora, andrei sul secondo, che era qua a destra, il fileheadkiller. Ci arriviamo stanchi? Ci arriviamo stanchi. Per cui andiamo qua. Forest Camp City. Beh, sì. Ci darà la possibilità probabilmente anche di... Trovare gli ultimi kern, le ultime croci da tirare giù, forse. O eventuali accampamenti che ancora non abbiamo liberato. Perché non ci ha dato la cimente di liberare... di aver liberato tutti gli accampamenti. Per cui... Allora, Eidis, fai che riparare... E' roba che abbiamo equipaggiato. Tipo, questa è equipaggiata, no. Questa è equipaggiata, no. Questa... No. Una roba. Ah, può riparare più cose contemporaneamente? Ma davvero? Ma dai! Ma dai! Ma saperlo prima. Ehm... Vabbè, tutto non era urgente. Craft. Allora, io farei adesso... Ehm... Un'altra armatura farei. Abbiamo abbastanza di olio, sì. Farei di nuovo un 45-45. Vediamo cosa ci riesce come... No, 45 è così. No? Così, però, gli mettiamo l'olio e così solo meno uno. Va bene. Spendiamo 60 hide per farla. Ok. Va bene. Invece se... Se sale il nostro super hide, anche se è una cosa di metallo. Vabbè. E... Chi abbiamo ancora? Quattro Heardmen. Ah, tu fai hunting, visto che da preservare non abbiamo più niente. Niente. Mi sa tu witchcraft. Ehm... No, sveina o non ha niente. Fai scout. Non abbiamo più carne. Ho proprio zero carne. Ehm... Ehm... Hunting è solo due, ma almeno qualcosa lo prenderemo. C'è qualcuno che ancora... No. make camp. Ah, ah, nefia, nefia. Si avvicina... Ah no, si stringe la spalla due volte come per controllare che sia ancora attaccata. Poi... Ehm... Muovere tipo le... 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 spigole della sua armatura. Mi aiuteresti con questo? Per piacere. Ah, sta cercando di... di uscire dall'armatura. L'aiutiamo. Ehm... Le slacci... le aiuti a togliere i lacci e le alzi l'armatura sopra la testa. Ehm... Con un altro... suono di... di sconforto. Vedi che... c'è sangue alla spalla. Ha una bruciatura... una... un... si... un... si è sbucciata, insomma. Eh... bagna un pezzo di... 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 tessuto nell'acqua e... e... tampona le... 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 le ferite. Ehm... Lasciami aiutarti. Pulisci la ferita con l'acqua... e... metti... della... urina di... di mucca per disinfettare. Eh... senti che si... eh... Si rigidisce mentre metti... lave la cura... ma non... 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 non fa nessun... suono di dolore. Eh... sono stato stupido a farli... sparare la mia difesa... sono stato fortunato che non abbiano... sfruttato l'opportunità. Eh... da come conosci Neffia, sai che una bruciatura del genere non la... non le fastidierà bene il compattimento. Grazie, ti occupi sempre così bene di me. Ok, allora... questo... in questo Expeditions non facciamoci saltare l'ultima possibilità... per cui... l'abbracciamo. Eh... senti che i suoi muscoli si rilassano sotto... il tuo tocco... che eventualmente... eh... posa le sue mani sopra le tue. Restate così seduti per un po' sentendo il calore... del fuoco che sta scoppiettando. Neffia... eh... è scosta una ciocca di capelli biondi dalla faccia. Eh... in cosa ci siamo... buttati? Cosa intendi? Le cose sono così diverse qui... il modo in cui i Nortumbri parlano del loro dio... il modo in cui il loro re li governa... sembra tutto più... pacifico penso... più ordinato... finché non siamo arrivati noi qua. Forse le cose sono diverse qui... ma dobbiamo concentrarci sul futuro del nostro clan per ora. Hai ragione... la gente a casa sta contando su di noi. Poi ti lascia un bacio dolce sulla guancia... non importa come andrà... quanto duro sarà... sarò sempre qui per te. Ma cosa hai detto? Sì... Con questo Neffia... scioglie l'armatura sopra la sua spalla buona... e... e si rimette a fare i suoi doveri della notte insomma. Ma... e tutto questo... niente carne? No carne? No carne? No carne... Era molto poco cibo... Sì... però... porca miseria dai! Ah no... l'armatura... com'è uscita? che non può essere rovinata in combattimento... non è tutto sto gran che di roba eh! Non è tutto sto gran che di armatura! Eh... la diamo a... a Slafer... Sì... andiamola da Slafer... Questa qua è... migliore di quella Caneffia... ehm... per il ranged soltanto... vorrei direi di no. Andiamo alla Rosqua... che tanto di correre... non è che corre tanto... ehm... sì... a prendere i soliti... e quindi la romance non è scattata... è iniziata forse... ci sarà un altro seguito... uh... C'è tanto la buon'ora eh! Stiamo per finire il gioco senza... che succedessi... No vabbè... ancora ci sono... credo una decina di episodi di... da... da fare... allora... Ah... qui è lo stesso posto dove c'erano i pazzi isterici... Sì... è il posto dei pazzi isterici qua... Sì... è il posto dei pazzi isterici qua... eh... Tu dovresti essere Sweetin... Merca amore... vai a prendere Viala e... i tuoi genitori... Cosa c'è? Chi sono queste persone? Sono qui per me... Lo vedremo... Allora... vediamo più che altro se... Allora... Nephi... se tu riesci a metterti... No... Nephi... riesci a metterti... Non... non... non mi è ancora chiaro quando è che gli restituisce l'attacco... Allora... tu... Ketil riesci a fare un doppio per caso... E con quanta 69... 69... dai ci proviamo... Grazie Ketil che ci fa sempre sognare... Eeeh... doppia... grande Ketil... Ma facciamo anche andare qua a stunnare questo... Se poi il Rosqua dovrebbe riuscire a tirarlo giù... Eeeh... ah si? 1 e 1 2 andati allora andiamocene super easy ma dai abbiamo un sacco di soldi possiamo comprare degli altri valuable degli altri hide degli altri no degli altri valuable degli altri sì degli altri pezzi di roba degli altri salvage degli altri hide allora io farei pausa che ha hide food così magari riuscivo a prendere un po' di carne e la mettere da parte visto che ne abbiamo 0 hai qualcosa da riparare anche di qualcuno ma invece abbiamo qualcosa da dover distruggere fai per total salvage road eggs allora questa flex swing possiamo toglierla bearded eggs ha un broad eggs che posso sostituirlo benissimo questo è un coltello a quell'altro che è migliore per cui via ottimo di armature niente va bene cosa sistemiamo qua? credo che è il cratta direi che a sto punto gli elmetti fanno sempre hide danno la il cosa è la cura? sì però tanto la cura se non è un problema però 30 c'è la metà di un'armatura facciamo un'armatura scusate intanto che si può no vabbè dai andiamo su shield cosa chiede? dei salvage facciamo un super mega shield per tizio 1 super resistenza ok però slave guarda ti facciamo lo scudo definitivo 70 potentissimo chi è che ancora è edis ancora perché è il reperma non ci serve a niente in questo momento per cui niente riposati che devo dire sono tutti a cacciare tranne lei che non ha nulla c'è lo suono di qualcuno che esce da una tenda e inciampa in qualcosa nefia è fuori dalla sua tenda ha la la spada vicino al al petto con un po' perplessa con un sguardo un po' perplesso si smette di girare sbatte gli occhi verso di te incerto penso che stessi segnando vi interrompete entrambi escoltate per un po' di seconda non c'è un suono fuori dal posto non c'è nessuno già va a mettere un legno e ravviva il fuoco sediamoci accanto ti riusci vicino a nefia sul sul legno fate le fiamme per un po' prima che lei parli è stata davvero una spedizione ti aspettavi questo? è stato migliore di quello che pensassi cosa stavi sognando? ero sicuro che ci fosse dei nemici nell'accampamento è buono che tu abbia uno sonno leggero dovremmo avercelo tutti si gira e si poggia la tua spalla sei un buon amico lo sai? non sono un migliore amico di quanto non lo sia tu per me allora penso che ci meritiamo l'un l'altro si avvicina un po' e si china verso di te riposando la sua spalla la sua testa sulla tua spalla ci ingira con un un abbraccio il bacio si verifica come se stessi realizzando entrambi che lo stavate aspettando è estremamente tenero per una donna così assertiva mi stavo chiedendo quando l'avresti fatto avrei dovuto farlo tempo fa torno alla mia tenda se vuoi puoi unirti eh ho capito ma così diretto vabbè andiamo va bene niente abbiamo fatto la roma sconnefia oh guardate la carne qua come sale le medicine come salgono alla grande tutto alla grande bene almeno sto giro non siamo finiti soli come in conquistador no più che altro lo scudo definitivo della vita che adesso diamo ad asleifr guardalo 28% 28% di absorption in più e 25% di evitare i danni critici ma potentissimo e l'altro lo diamo invece a a eidis e in compenso eidis chi distruggi no no il mio no distruggi questa e buono ma sono già 23 minuti è terribile nulla interrompiamo un attimo qua io vi invito come al solito lasciate un mi piace un commento qua sotto iscrivetevi per caso non è stato già fatto ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti e buona giornata ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti